Grazie a tutti. 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 Allora, slalom di Cardeto che vediamo lo splendido paese di origine grecana alle spalle. Allora, percorso nuovo, sei venuto a onorare la scuderia e gli amici, è doveroso, raccontaci un po' questa esperienza qua a Cardeto. Niente, allora, come hai detto, come hai detto, è stato un po' scimolosa perché non si teneva tanto bene, però diciamo che è arrivato sempre la prima edizione, è andata benissimo sia per me stesso sia per gli altri piloti che non hanno fatto tanti tanti danni. Si, effettivamente le macchine, non si teneva, non si teneva perché l'asfalto non è di quelli proprio dal massimo, però... Diciamo come prima edizione come prima edizione come prima edizione ci sta bene. Ma abbiamo i capelli bianchi e quindi tra qualche anno diremo i remi in barca. Beh, ancora... Ancora ci vuole. Bene, vuoi salutare qualcuno? Sì, ringrazio come sempre la famiglia, ringrazio i meccanici, ringrazio Francesco Romeo che mi segue e mi cura la macchina dappertutto, e tutti gli amici, quelli che ci seguono, il gruppo, il team che abbiamo noi, i ragazzi dell'officina, e la scuderia, come sempre la scuderia Spomonte, e a nome di Lello... Pure a Lello Pirino, salutare. Lello Pirino è il nostro presidente che si impegna sempre a fare qualcosa di nuovo. Bene, grazie. Grazie a te, buon pomeriggio, alla prossima, ciao. Per il gruppo N, Rocco Musolino. L'intramontabile Rocco Musolino. Cambia macchine ma vince sempre. Il consigliere Giuseppe Ciglioni. Primo classificato Rocco Musolino. Premia Eleonora Maccherino. Allora, l'intramontabile Rocco Musolino. Che ci fu la competa? ungente giuseppe. Giuseppe...